Voglio il tuo capo. Dov'escio? Io non ti dico un cazzo. Era quello che volevo sentirti dire. È legale? No. Vuoi che entriamo e glielo diciamo? Ho dei diritti. Bruttastronzo! Non oggi. No, no, no! Parlerà? Non più. Quella stanza è microfonata. Se gli hai estratto qualche informazione, l'Interpol ce l'ha. Diggi che hanno la mattinata libera. Hsho è all'ombra. Andiamo a prenderlo? Non si va a prendere Hsho come si va a fare la spesa. Se vuoi catturare i lupi, devi usare i lupi. Andiamo a caccia. A presto. Grazie a tutti.